Tutte le novità della stagione 4 capitolo 4 di Fortnite Abbiamo ora 3 nuovi POI Sweet sanguigne, insenatura inesorabile e opulenza oscura Abbiamo anche le nuove torri di previsione Qui sono situati i boss che una volta sconfitti ci daranno informazioni sui futuri cerchi della tempesta Arrivano in game 4 nuove armi Il razzariete, il fucile a pompa infiltratore, la mitraglietta a raffica con mirino E il fucile d'assalto doppio caricatore Abbiamo anche 3 nuovi item La torretta d'affari, la borsa da rapina e il paracadute junior contenuto nella borsa da rapina Inoltre tornano dal magazzino Pistola a tamburo di mida Arco esplosivo di nitroglicerina Barile da bevute di Oceania Fucile pesante a carica di kit Lanciatore onda d'urto di kit Arma a raggi di zig e choppy MK7 di fondazione Stinger SMG di Gunnar C4 Le granate onda d'urto Fucile di precisione silenziato E pistola silenziata Abbiamo ora 6 nuovi perk Introdotte le medaglie superstite Una serie di incarichi che ci permettono di sbloccare tutti gli stili del dorso lama pregiato E per finire abbiamo le nuove Nitrofang Queste erano